Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di aver aderito a questo nostro invito in un orario magari un po' insolito, ma era opportuno farlo. Per me è anche motivo, diciamo così, non dico di sofferenza, però avrei voluto non essere qua, ma sono stato costretto dalle vicende di questi ultimi giorni. Mi riferisco alla vicenda nota del passaggio di Vucinic, il presunto passaggio e possibile passaggio di Vucinic e di Guarin, ma più specificamente al comunicato stampa emesso dall'Inter nella giornata di ieri, precisamente alle 18.48, quando noi eravamo in procinto di giocare all'Olimpico, quindi non abbiamo potuto che rispondere con un comunicato molto stringato, ma che comunque esternava quello che era il nostro stato d'animo. Abbiamo definito sconcertante il comunicato stampa, perché in realtà conteneva delle situazioni non veritiere, delle situazioni false, pertanto la mia puntualizzazione si è resa necessaria in rappresentanza e a tutela dell'immagine della Juventus, e anche di alcuni attori di questa vicenda, di questa direi triste vicenda fino ad oggi, attori che sono i due calciatori interessati, i due professionisti seri, quali sono Guarin e Vucinic, che sono stati tirati in ballo, direi malgrado tutto in modo assolutamente non corretto, per cui il motivo della mia precisazione è di essere qua. Mi riferisco appunto al comunicato, perché si accenna di aver deciso da parte dell'Internazionale di non procedere nella trattativa con la Juventus per il trasferimento dei calciatori Freddy Guarini e Mirko Vucinic. In realtà questa trattativa era già stata definita tra le parti, era stata definita chiaramente con un accordo verbale, ma si sa che nel mondo del calcio e nella vita in generale sono delle regole non scritte, ma che assolutamente devono essere rispettati. Accordi che sono stati raggiunti tra la dirigenza della Juventus da me rappresentata e la dirigenza dell'Inter rappresentata dal direttore generale Fassone. Devo dire anche, a supporto di questa tesi, che il presidente Andrea Agnelli ha più volte tentato di mettersi in contatto con il collega presidente Toir e nella giornata di ieri alle 10.48 ha ricevuto un sms da parte sua che dava l'assenso definitivo all'operazione. In realtà, come sapete, la cosa è assolutamente saltata, non abbiamo capito perché, addirittura in una dichiarazione Fassone, direttore generale, si rifà a delle motivazioni di carattere ambientali, che trovo molto strano nel gergo calcistico, soprattutto nella movimentazione e nei trasferimenti dei calciatori. Ma come ho detto prima, il motivo principale è la mancanza di correttezza nei confronti dei protagonisti, di due calciatori, di cui uno che conosciamo benissimo, che è il nostro calciatore Vucinis, un grande protagonista, un professionista serio, che ha contribuito con le sue prestazioni a farci conquistare due scudetti consecutivamente. E la cosa ancora più clamorosa, che dà un inquadramento di quella che è la situazione negativa di questo passaggio, è il fatto che nella storia del calcio, laddove un calciatore abbandona il cosiddetto armadietto dei suoi arredi personali, evidentemente si diceva, si è arrivati e si è concluso un passaggio, un trasferimento, cosa che è stata fatta da Vucinis. Quindi è la prima volta per me che sono abituato da più di 30 anni a trattare i calciatori, e che comunque, come sapete, al di là dell'importanza della valenza di ogni trasferimento, le dinamiche sono sempre le stesse, ad assistere a una situazione incresciosa, una situazione che, come potete ben capire, ha portato nel disagio più assoluto sia Vucinis che Guarin, il quale, su autorizzazione della stessa Inter, aveva avuto contatti con noi ed eravamo arrivati alla definizione economica e alla durata del suo contratto. Quindi la mia presenza, come ho detto prima, è assolutamente necessaria a tutela della Juventus e anche per rispondere, direi, verso questi ragazzi, questi professionisti, che sono stati, direi, maltrattati. Devo anche aggiungere, nella giornata di oggi, apparsi su alcuni giornali alcune indiscrizioni relative a visite mediche di Vucinis, devo anche dire, a dover di cronica e di verità, che Vucinis nelle due passate stagioni ha fatto 35 presenti ufficiali nella stagione 11-12 e ben 43 nella stagione 13-14, la dimostrazione della sua totale idoneità e della sua totale, direi, integrità fisica. Questo era un po' così quello che ci tenevo a dirvi in modo molto diretto, vi ringrazio della vostra presenza e a questo punto sono a disposizione anche per eventuali domande. Sera Beppe, volevo chiedere solo se a questo punto, dopo, diciamo, tutta questa travagliata trattativa, Vucinis può in qualche modo andare all'Inter, cioè un'opzione valida, un'alternativa possibile o esclusa a priori? Allo stato attuale penso di no, devo dire, come ho detto prima, che il presidente Andrea Agnelli ha tentato più volte di contattare Tuir perché voleva un chiarimento in merito a questo, in quanto i manager della società Inter hanno a noi manifestato, come dicevo prima, anche il fatto esplicito che Tuir avesse dato l'assenso, ha senso che è stato dato dallo stesso Tuir ad Andrea Agnelli attraverso un SMS e chiaramente ciò non è sufficiente perché credo che tra presidenti esista anche un rapporto di correttezza tale da giustificare poi comunque una motivazione più ampia di un semplice SMS. Sono riusciti a pararsi nella giornata di oggi, io con Andrea Agnelli sono stato fino a qualche minuto fa, quindi siamo stati in ufficio assieme, ci sono parlati e come ho detto prima non esistono ancora degli elementi concreti in merito a un eventuale trasferimento di Vucinic all'Inter. In questo momento Vucinic potrebbe restare quindi al 100% la Juve eventualmente oppure oggi l'avete incontrato come il suo stato d'animo e a questo punto comunque sul mercato invece perché come hai detto tu aveva svuotato l'ormadietto anche psicologicamente probabilmente lui ritiene chiusa la sua avventura. Cioè al di là dell'Inter com'è la situazione di Vucinic? Ma ieri noi eravamo tutti impegnati nella trasferta di Roma quindi non abbiamo potuto parlargli, l'abbiamo fatto telefonicamente, stamattina ho voluto incontrarlo in sede con Fabio Paratici e abbiamo con lui parlato della questione, chiaramente abbiamo espresso da parte nostra il grande rammarico, abbiamo motivato anche e dato tutte le spiegazioni al fatto che questo trasferimento non si è potuto concludere, chiaramente il suo stato d'animo è veramente precario evidentemente perché non dimentichiamoci che comunque sono anche dei ragazzi non abituati a queste dinamiche della vita, di conseguenza è molto dispiaciuto, l'abbiamo rincorato dicendo che comunque assolutamente la Juventus non l'abbandonerà mai perché come ho detto prima la Juventus è grata per quello che ha fatto. Il fatto che si sia aperto a questo spiraglio di trasferimento lo si è aperto solo ed esclusivamente perché è stata la stessa Inter verso fine dicembre a chiedere l'autorizzazione e potergli parlare. Come io più volte ho ribadito, ho sempre detto che i nostri giocatori fanno parte di un gruppo che vogliamo rimanga assolutamente definito e solo nel caso uno di questi giocatori chiedesse di andare via noi cercheremo di accontentarlo. In questa specifica situazione abbiamo incontrato l'Inter per vedere quali erano le possibilità attorno a questo trasferimento, non esistevano contropartite economiche, ci siamo allora inventati per facilitare questa cosa un eventuale tra virgolette baratto perché di tale bisogna parlare e quindi in questo trasferimento abbiamo identificato un giocatore del loro che era Guarin. Quindi questa iniziativa è partita solo ed esclusivamente da loro. Io volevo chiedere, ma le giustificazioni che ha dato l'altra società per spiegare il ripensamento si limitano alla frase che ci ha detto di Fassone? Possibile due giorni di trattativa e poi si liquida con una frase così? Questo volevo capire. E poi se Moratti è stato coinvolto nella trattativa? Io non entro nel merito di quelli che sono i rapporti interni dell'Inter perché non mi compete, non è corretto. Dico solo che al di là di quello che può essere teoricamente la governance che loro utilizzano siamo trovati in grande difficoltà. La difficoltà, come vi ho detto prima, l'ha avuta anche il massimo dirigente della Juventus che è Andrea Agnelli perché non siamo riusciti a capire che cosa fosse successo e quindi chiaramente io mi guardo bene da allestire un'ulteriore trattativa con loro perché non dico che si possa parlare di mancanza di affidabilità ma sicuramente di mancanza e di serietà, sì. Scusa? Moratti da parte loro penso di sì ma non lo so dire. Questo non... no, 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 no. I figli dell'Inter si sono ribellati perché sostenevano che tu stessi dando un pacco a loro. Pensavi di fare un affalone, cioè sostanzialmente di fare un'operazione molto vantaggiosa per noi e molto svantaggiosa per l'Inter? Avevi questa percezione? No, assolutamente. Noi abbiamo sempre detto che questo mercato andava visto da noi per cogliere quelle che possono essere delle opportunità. Come ho detto prima c'è stato questo desiderio da parte dell'Inter di contattare Vucinic, da noi è stato dato l'assenso. Nel momento in cui non si poteva monetizzare questo trasferimento abbiamo ritenuto che tra le contropartite tecniche che ci potevano dare maggiori garanzie ci fosse quella di Guarin per motivi di carattere tattico, tecnico, agonistico, calcistico e quindi evidentemente abbiamo ragionato in questo modo. Non abbiamo messo la pistola sulla tempia di nessuno e quindi nessuno di noi ha mai pensato e immaginato che trasferire Vucinic significasse dare un pacco perché Vucinic come ho detto prima e lo ripeto nella stagione 11-12 ha fatto 35 partite e nel 12-13 43 partite realizzando la bellezza di 24 gol. Vucinic è ancora oggi un gran giocatore e se eventualmente sarà trasferito lo è solo perché in questo reparto offensivo come abbiamo detto negli ultimi anni c'è stato un incremento di qualità tale da alzare il livello di concorrenza tra gli stessi e quindi Vucinic si è trovato con una concorrenza proprio forte e con meno possibilità di giocare. Eccomi, volevo sapere se le voci o comunque le possibilità che Vucinic andasse in Inghilterra rimangono tali e a questo punto se appunto nella giornata odierna visto quello che è successo sono stati riallacciati determinati contatti e se questo comunque se la sua partenza eventualmente prelude all'arrivo di un altro attaccante o se visto come sta andando la stagione a questo punto vi è accontentato di rimanere in quattro lì davanti? Vucinic oggi è un giocatore a tutti gli effetti della Juventus quindi valuteremo giorno dopo giorno è da farsi ecco così come ho detto che si era aperto questo spirale di trasferimento dico anche che non necessariamente dobbiamo considerarlo un ex calciatore assolutamente fa parte di noi certamente in questo momento capite che il morale è un po' assolutamente sotto i tacchi quindi oggi abbiamo concesso così un permesso probabilmente lo faremo anche domani ma perché il contracolpo direi negativo da questa situazione è stato grosso calcolando anche che è stato sottoposto come ho detto prima a visite mediche e quando si fanno delle visite mediche oltre l'armadietto credo che la conseguenza immediata sia quella della sottoscrizione del contratto cosa comunque che nei suoi aspetti più concreti verbali è stata fatta dal suo rappresentante con i dirigenti dell'Inter. Direttore vi aspettate a questo punto qualche passo ufficiale di riavvicinamento nei vostri confronti da parte dell'Inter? Lei prima l'ho accennato, cosa deve succedere perché voi un domani possiate tornare a sedervi serenamente al tavolo delle trattative con l'Inter? Deve succedere come ho detto prima che quantomeno il massimo responsabile dell'Inter cioè il dottor Toir parli con Andrea Agnelli perché è giusto che parli con lui dia delle spiegazioni a quello che è accaduto perché noi ci siamo rifatti o a un comunicato che come ho detto è infondato e lesivo anche dell'immagine della società o a direi immagine televisive nel corso dei quali un dirigente come Fassone ha definito le problematiche di carattere ambientale. Io non è che possa capire bene cosa significa ambientale però ecco queste sono assolutamente le risposte che noi abbiamo avuto.